guarda che è un posto, un posto magico, io ti ho detto che ero rimasto a bocca aperta poi fra un po' si vede Rocca Calascio, ci abbiamo Rocca Calascio davanti fra un pochino quando si apre ci vedrà sempre Rocca Calascio davanti, però è bello hai visto ma hai letto? esatto stai già a 15 euro bosse se fammi una foto sul trampolino ci facciamo fare una foto sul trampolino come al solito no no ci hai pranzo pagato per questo guarda guardalo guarda fantastico no è bello no vabbè che sono andato sotto cioè veramente è il numero uno vai vai guarda che acqua guarda che spettacolo ma è tutto ciò Dario lo sta? Dario cioè Dario lo sta noi capito invece venivamo da qua con boss abbiamo tutto sto giro largo non... infatti lo sono ricordato perché queste scalette le avevamo fatte pure un'altra volta è come l'oro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.